Il turismo ha bisogno di canali di organizzazione, ha bisogno soprattutto di sinergia e quindi quando più soggetti, più toro per retro, in questo caso, si mettono assieme per un obiettivo comune, il risultato non può essere che migliore. Il valore aggiunto è anche la copertura provinciale e territoriale di questo raggruppamento perché naturalmente, come abbiamo puntato sul tema della capitale italiana 2024, distribuita in tutto il territorio provinciale, altrettanto sarà importante che rispondano le strutture ricettive e anche i canali di incoming per ospitare, indirizzare il pubblico e soprattutto per meglio lavorare in una distribuzione di 12 mesi, che poi è il vero obiettivo, al di là del sold out già nei fatti estivo, ma già dal 23 insomma. Nasce da tempi piuttosto lontani, diciamo da prima del Covid perché ci siamo uniti a livello regionale con un'associazione che si chiama Inside Mark Alive e abbiamo cominciato a fare gruppo già da allora. Abbiamo poi studiato qui a livello locale perché siamo la maggioranza degli operatori, la stragrande, forse i più rilevanti sicuramente sul territorio, deciso di approfittare del volano importantissimo che è quello che è Pesaro capitale della cultura 2024 per poi proporre a livello globale, sia nazionale che internazionale, perché noi siamo presenti un po' su tutti i mercati, Pesaro è il territorio di Pesaro, Pesaro è il nostro territorio che è una cosa fondamentale. Noi diamo copertura a 360 gradi perché noi facciamo promozione e commercializzazione. Noi abbiamo creato, abbiamo messo i nostri soldi, noi siamo otto soci, siamo tutti insieme, siamo molto uniti, abbiamo deciso di mettere soldi. Non saremo noi personalmente come aziende ma sarà Discover Pesaro che lavorerà per essere a disposizione del territorio, per vendere il territorio nel giusto modo. Da questo punto di vista è importante perché ci permette di fare un lavoro mirato qua, ma ci permette di fare un lavoro anche più largo nella promozione all'estero, nell'ambiente che abbiamo già individuato dei paesi europei ed extraeuropei che abbiamo individuato come priorità e quindi insomma un partner in più che raggruppa altri soggetti, per noi è importante, quindi siamo contenti e grati di questa operazione. Noi ci crediamo molto, abbiamo bisogno che il Comune e le istituzioni ci stiano vicino, che approfittino così come loro hanno lanciato Pesaro 2024, adesso noi siamo lo strumento, l'arma giusta per promuovere il territorio.